E questa è una delle prime foto fatte con il complesso. Si tratta di un locale da Monte San Giacomo con Tami Pinto alla fisarmonica, Nicolino Lugercio batterista, Gianni Pinto alla sax, Enzo Varuzza alla chitarra e all'epoca c'era Luigi Pisapia col contrabbasso. Invece qua siamo in una casa privata di Sassan. Abbiamo sempre Tami Pinto alla fisarmonica, Nicolino, Gianni Pinto e poi c'è Vincenzo Esposito che purtroppo non c'è più. Invece qui siamo a Sassano dove c'è un cantante dilettante di Sassano. Ecco qua. Questa invece è una fotografia fatta da locale di De Rosa a Trinità. Si vede Angelo Pinto col flauto, due giovani di San Pietro, Taraguri e San Darseni e Tami Pinto in prima fila. Questa invece è una foto scattata nel salone per feste di Giordano a Silla. Si intravede il bassista Geppino di Rocca d'Aspiri, Angelo Pinto al basso, Enzo Petrizzo un altro ragazzo di Sassano. Io non mi vedo e c'è una famosa cantante e ballerina Cicchita de Rio che fu ospite quella sera. Vi arriva da tanto.